Siamo in un polmone di verde al ridosso della centralissima piazzetta San Girolamo di Ischia. Siamo in una proprietà di una società tutta isolana, una società privata di cui fa parte la signora Lisa Romano. Vi raccontiamo la storia di questo bel pino plurisecolare e purtroppo, come abbiamo detto, assassinato. Lisa, di che cosa parliamo? Allora, innanzitutto è un esemplare ultracentenario e come vedete è bellissimo e sovrasta la piazza. Quindi non è solo un danno privato, ma è un danno che viene fatto all'intera comunità di Ischia. Perché questo pino si affaccia proprio sulla piazza e ne fa da cornice. All'interno di un piccolo parco, come avete potuto vedere, che è proprio la cornice naturale della piazzetta. E proprio per questo esiste un progetto di rivalutazione proprio di questo piccolo polmone verde che sarà anche illuminato dando maggior bellezza anche alla piazzetta. E per questo siamo veramente amareggiati nel constatare che in mano ignote hanno praticato una serie di fori sulla corteccia dell'albero, alla base dell'albero, e delle sostanze fitotossiche sono state iniettate che hanno portato in brevissimo tempo all'essiccazione della pianta. Purtroppo il pino è morto. Abbiamo anche sentito l'agronomo Mattera, che è uno dei massimi esperti qui sull'isola, e purtroppo non c'è più niente da fare per il pino che dovrà essere abbattuto. Un danno molto grave. Non lo considero un reato di serie B per due motivi. Innanzitutto il danno per la comunità ed anche perché noi non possiamo accettare questi sistemi, questa volontà, questa violenza, questa voglia di prevaricare, questo è quasi intimidire. Quindi noi non accettiamo una cosa del genere che denunciamo con forza. E soprattutto vogliamo dire che noi al posto di questo pino ne pianteremo a breve due pini che saranno della varietà pino d'Aleppo, molto simile ai nostri pini, ma che ha una resistenza maggiore e magari crescerà un po' più velocemente perché ci vorranno cento anni per riavere un pino di queste dimensioni. Quindi non lo vedremo né noi né i nostri figli, purtroppo, magari i nostri nipoti. Per questo ci sarà una delegazione dei bimbi della scuola materna del Marconi che darà un nome ai giovani pini che noi verremo a mettere qui al posto di questo per ridare alla piazzetta la sua giusta cornice. Ringrazio anche le forze dell'ordine che stanno indagando su questo argomento perché, ripeto, non è un reato di serie B, è un reato che colpisce un po' la comunità di Ischia perché il salotto è la nostra piazzetta, è la piazzetta degli ischitani.